Salve a tutti ragazzi, qua è Zilla, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qua su Papers Please, omegio, 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 omegio. Ok ragazzi, non mi ricordo più dove eravamo arrivati, non me lo ricordo più, non me lo ricordo più. Ah, sì, 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 che tipo uno si è fatto esplodere. Sì, siamo arrivati al settimo giorno ragazzi, wow, non abbiamo più soldi, siamo dei poveracci raga, what the fuck, ho detto cammino per andare a lavorare. Comunque ragazzi, cosa devo dirvi? Ah già, allora, in questi giorni qua c'è veramente un sacco di roba da fare, cioè veramente un sacco di roba da studiare, non so se riesco a fare video ogni giorno, è difficile, credo che ne farò uno ogni due barra tre, in questa settimana, credo, o almeno credo, magari poi ne caricherò cinque o sei al giorno, non si sa. Ma in linea di massima ho tante cose da fare, quindi è difficile che io riesca a fare tanti video. Comunque, andiamo avanti. Allora, ispettore. Ah, quindi ora abbiamo uno scanner di ricerca. L'hanno messo perché appunto, perché abbiamo paura appunto di questi estremisti, come vedete, possiamo vedere se hanno delle armi. Interessante, va bene, ho capito. Allora, il prossimo, dai. Ragazzi, iniziamo questa selezione degli ebrei. Tu, dimmi un po', ebreo, ebreo. Andami, perché stai viaggiando? Sto visitando, soci, ok. Sta 14 giorni, vuole visitare. Ok, 14 giorni visitare, giusto. È giusto, ed entra nel 1922, 1226. Quindi, ok. No, aspetta, questo qua è giusto, raga, non mi ricordo più se... Ma dovrebbe essere giusto, sì, infatti, giusto, 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 giusto. Questo qua mi dice quando scade, quindi scade 0,4. Vabbè, raga, questa qua mi sembra la tizia a posto. Però è della colecia. Quindi cosa vuol dire? Che tipo, dobbiamo fare qualche scanner. Diamo un attimino cosa dice il tizio. Sì, search for collection before providing a re-entring. Quindi dobbiamo, appunto, vedere le tette di sta bella signora. Ok, come faccio a... Ok, our collection must be searched. Quindi lei è in a collection, mi dispo, cry, cry. Quindi... Siete selezionata per una ricerca random, proprio random, toh. Mangia, toh. Fatti le foto, fatti il selfie. Mmm... Faccio un po' vedere come sei venuta, dolcezza, faccio un po' vedere. E là là! Ehi, e ste due meloni? Eh? Ma sei proprio brutta di faccia, mamma mia. Beh, c'è un bel culetto, ma a parte questo, ragazzi... Me ne frega un cazzo. Sì, direi che può passare, ragazzi. Direi che può passare. Non vorrei fare una cazzata, ma dovrei poter passare. Vediamo un po'. Ce l'ho di là adesso. Ho fatto bene. Sì, ho fatto bene. Ok. Vapers, please. Allora, qual è? Perché voi vi stai viaggiando? Sono in transito. Quanto vuoi rimanere? Vuoi rimanere? Due giorni. Giusto. Perfetto. Quindi, cerchiamo qua i codici. Mi sembra corretto. Ragazzi, se non capite cosa sto facendo adesso, guardatevi gli altri episodi. Questa bella donna si chiama Amminevarnacchia K. Va bene così. Ed è di... Dove sei poi tu? Shlingiton. Vabbè, raga, io... Dove dici... No, 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 no. Vabbè, io, raga, di dire di sì. Rischio, ma... È una femmina. Ci assomiglia. Sì, dai. Andiamo là. Vediamo un pochettino se ho fatto bene. Dire di sì, raga. Direi che questo qua può entrare. Sta ebrea. Nel forno, avanti il prossimo. Porco Dio, porca la Madonna. Porco Dio, porco. Minchia la città, oh. Che palle. Vabbè, sta transitando... Sta transitando. Non mi ricordo più. Sì. Ok. Sta transitando, rimane due settimane. Giusto. Non facciamo errori stavolta, raga. È una coleccia, quindi subito... Subito a... Rompere il cazzo. Quindi... Bella fanciulla, tu... Devi farmi vedere il culo. Ma tipo subito. Fammi vedere il culo. Fammi vedere il culo. No. Comunque, ragazzi, per la sfida di League of Legends... Non so quando la metterò. Non lo so. Madonna, che burzona. Madonna, raga. Che schifo che fa questo. Cioè, per carità. Magari qualcuno delle donne... Chi ha te? È che sei un ninja, sei. Una tartaruga ninja. Questi qua sono dighi, secondo me, raga. Cioè... Sono dei piselli questi. Cioè, guarda. Proprio dritti sul culo. Vedete, vedete, raga? Per forza, sono piselli. Ora tu mi spieghi... Cosa ci fanno dei piselli dietro alla tua schiena. Cioè, ho capito che ti piacciono. No. Cioè, no. Che cazzo vuoi dirmi? Tu che... Cioè, no. Cosa vuoi dirmi? Non correlation. Cioè, dei cazzo di cosi dietro. Ah, forse... No weapons or contra. Vengono qua. Ecco, perché stavo parlando di dirmi dietro? Ciao, bella. Ciao, bella. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Ficcati di quei dirmi dove ti piace a te, dai. Abbiamo già capito dove ti piace. Abbiamo già capito. Comunque, sto dicendo, signori. Per il video di League of Legends. Quello lì che vi ho chiesto appunto di... La sfida. Non so ancora quando farlo. Cioè, devo ancora scegliere. Quindi tutto... L'eroe. Da... Da fare. Perché non avete comunque proposto... Tu sei maschio? Tu sei maschio? What the fuck? Un uomo o una donna? Perché me lo chiedi? Eh, non lo so. Non mi sembri tanto uomo, tu, eh. Dima un pochettino, raga. Io non ci credo. Cioè, non può essere un uomo. What the fuck? Raga, un travestito. What the fuck? What the fuck? Che schifo. Dietelo tu. Ok, ok. Vediamo se il resto è tutto giusto. 168 centimetri. Bobbi sembra giusto. 0,917 ci sta. Ma sì. Cioè, raga, io direi che può entrare. Sì, sì, può entrare. Boh, che schifo, raga. Un travestito. What the fuck? Vattere, va brutta merda. No. E poi che cazzo? Ah, devo anche dargli la... La testa da finocchio. Vai, va. Vai, va. Scemo di merda. Vai, vai, vai. Vai, vai. Come vi dice? Mi esce il coso e finocchio. Non può entrare. Papers, please. Ok. Quanto è che stai viaggiando? Sto venitando mia moglie. Sì, però... Socio, se non mi passi il permesso, capisci che... Non va bene. Non va bene. Dov'è il tuo permesso di entrata? Dov'è? Ma com'è? Perché? Oh. Non c'è il permesso... Ah, ecco. Posso fare qui. Sì. Dov'è il tuo permesso di entrata, socio? Sì, dov'è? E ce l'ho qui. Tu sei un figlio di puttana. Tu sei un figlio di puttana. Non me lo dai subito. Allora, ti chiami Grönlager. Morvin. Nato nel... Non me ne cerca un cazzo. Tsunekeido. Boh, ragazzi, se non mi faccio un'altra figura di merda. E vado a vedere sta cazzo di mappa. Lui si trova in... Impor. E ad Impor c'è Tsunekeido. Va bene. È un maschio. La faccia è la sua. C'è la stessa faccia da cazzo, ragazzi. È la sua. 24. Boh, raga. Se voglio una cazzata, ma questo dovrebbe... Vai, va. Vai, va. Guarda. Minchia, se i momi dice qualcosa, giuro che l'ho shotto questo. Giuro che l'ho shotto. Papers, please. Ok, questo qua sta visitando e rimane... 14... Sto visitando, guarda. Sta transitando e rimane 14 giorni. Aspettate un attimo, raga. Vediamo quanto sto registrando. Sto registrando. No, 8 minuti. Ok. Allora, cose uguale. Yap. Cosa uguale. E Jan K una... Minchia. Che nome di merda. Che nome di merda. È un maschio. Per un colecia, raga. Questo qua è del... Dei colecia. Cioè, dei... Dei cattivoni, se ci pensiamo bene. Quindi, tutti i collections devono essere controllati. Quindi, bello di nonna. Mi sa che devi farti una foto al culo. Ma, what the fuck? What the fuck, man? Devo... Ok. Ecco, sei stato... Selezionato per una ricerca random. Ta, toh. Toh. Buon ragazzi, vediamo se anche lui ha... Cose strane. Beh, a parte che c'è un pisellino che proprio, minchia, ti gratti la testa con... Cos'è, raga? Un uccino? What the fuck? Ehi. Ehi. Ehi, la, la, la. E questo che cos'è? Eh? Cos'è questo? È per tua mamma quello? Eh? Me lo dici? Che cos'è? Che cos'è? Non c'è il tollerancio del contrabbando. Che cosa? Toh, vai in prigione. Vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vanti prossimo, signori. Che sono un fi puttana. Decire fi puttana. Vi ringrazio, vi ringrazio. Ok. Ma che bellino che è, raga. Sta visitando. Ma che bellino che è. 60 giorni. Va bene. Per adesso è giusto. Il fatto è che è un collection, come sempre. Quindi dobbiamo controllarli la minchia. Che schifo, raga. Cioè, what the fuck. Vabbò. Eh, dobbiamo controllare la minchia pure a questo. Dai, speriamo che ce l'abbiamo un pochino più grosso dell'altro. Che minchia, sono tutti i collection, cioè. Poi diventiamo razzisti, capito, no? Come i cinesi. I neri ce l'hanno grosso. E i cinesi ce l'hanno piccolo. Poi esce che i collection, vedete, raga, ce l'hanno piccolo. A parte sta faccia. Sta faccia da rape. Che cos'è? Che sei? Ma cosa sei? Ma quando sei brutto. Ui. E cosa sono questi biscotti, raga? Raga, che cazzo sono questi? No, qualcuno se me lo deve spiegare. No, scusatemi. Devo fare il contrabbando. Che cosa sono veramente biscotti? Sono pastiglie. Cosa ci fanno le pastiglie lì, eh? Cosa ci fai con quel biagra, eh? Cosa ci fai con quel biagra? Go down, my friend. Dove è lì? I don't use medicine. Mi dice che adesso sono andato alle medicine, che mi lascio passare. Tu devi morire in carcere, figlio di puttana. Vai, va. Vai, va. Vai, va. Vai, va. Mi piacciono le tue medicine. Sono belline le tue medicine. Avanti al prossimo, signori. Vediamo le medicine o i dildi che avete dentro il vostro culo. Wow, questo è fierissimo, raga. Sta visitando? Va bene. 12 week. Sì, tre mesi ci siamo. Raga, la faccia mi sembra da deficiente uguale, ma non è lo stesso. Ne sono quasi sicuro. What? Va bene. Ok. K. È lui, raga. Sì, a parte che il tuo nome mi piace molto. Perché il tuo nome è la cazzo di cane? Sì, è il tuo nome, raga. Scusatemi, il tuo numero. Perché è la cazzo di cane? Scusami, soggio. Perché non corrisponde? Di cosa stai parlando? No, raga, ora devo fare una scelta. Lo mando a casa, dalla sua famiglia, a fare la sua vita tranquillamente. Oppure in prigione! Sono un bastardo, raga. Sono un bastardo, what the fuck? What the fuck? Sono troppo cattivo, raga. Avanti il prossimo! Avanti il prossimo! Avanti il prossimo! Questa è l'ultima, raga. Sta appunto transitando e quanto vuole rimanere sta fanciulla? One year. Perfetto, qua c'è scritto 14 giorni. C'è qualcosa che non va, principessa? Perché qua mi dice che vuoi stare 14 giorni, invece stai un anno? Eh? Eh? Cosa vuoi fare, eh? Puttana. Adesso voglio rimanere a fare un couple switch. No, raga, non ho capito. E quindi? Ma boh, eh... Boh, non lo so, raga. Non ho ben capito cosa dovrei fare adesso. Boh, però per il resto dovrebbe coincidere. Vediamo un attimino la città di Stabattona. Lei è della Antegria e di San Marmero. Boh, mi sembra giusto. È una femmina. Oh, io, raga, non lo so. Mi ha detto 14 giorni e poi mi ha detto un anno. Non posso mandarla a casa. Cioè, è giusto. Cioè, lei mi ha detto poi, io, of course. Cioè, mi hanno detto, boh, va bene. Cioè, spero, raga. Vediamo. Oh, yes, mother fuck. Oh, mio Dio, stanno morendo tutti. Cioè? No, raga, fatti seri. Mi sta morendo tutta la famiglia. Mi sta morendo. Cioè, tutti ammalati. Tutti che hanno fame. Lo zio che è veramente molto ammalato. Boh, raga, fottetevi. Cioè, io vivo per me. Astotzka non ha tolleranza per i delinquenti. E beh. Perché? Perché? No, perché? Lega, mi hanno messo in carcere. Ah, perché non c'ho più i soldi? Ho perso. Ho perso. Ho perso. Ho perso. No, raga, fatti seri. Ho perso. Ho perso. Vaffanculo. Ma io non ci posso credere, raga, serio. What the fuck? Are you serious? No, raga, io non ci credo. No, raga, io... Io non ci credo. No. Cioè, no, raga, no. No, raga, no. 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 No, raga, no. Grazie.